La città di Adelfia, nel Barese, è tornata dopo gli anni della pandemia a festeggiare il suo patrono, Santrifone, il servizio di Alba Di Palo. E' il santo con l'armatura, usata per affermare la fede. Lui, vittima dell'imperatore Decio e del suo editto contro i cristiani, abbracciò appena diciottenne la parola di Dio e ne divenne martire. Santrifone è il patrono di Adelfia, cittadina alle porte di Bari, che lo acclama e festeggia a novembre in segno di ringraziamento. E' l'espressione del ringraziamento, perché è la gratitudine che tutto il paese vive nei confronti del Signore, perché è alla fine anche di tutto il raccolto, Questo è un paese prettamente agricolo, per cui diventa anche un modo attraverso cui si vive il rendimento di grazie, si vive quel mandato ricevuto nella creazione di custodire il creato. Trifone, ovvero colui che ha animo nobile, è il collante di fedeli che arrivano anche da lontano, ai pellegrini è dedicato il giorno del 10 novembre, il successivo alla comunità cittadina. Come sempre la giornata del 10 viene lasciata, viene consegnata a tutti i vari fedeli diffusi in tutto il mondo, come forma anche di accoglienza, come forma di rispetto. Poi invece questa è la giornata degli abitanti di Adelfia, dove vive con più intimità e con il suo legame, con il santo patrono, con Santrifone. La processione esalta la devozione, assieme alla gara pirotecnica appuntamento imperdibile per esperti mastrofuchisti, che arrivano anche da altre regioni. E viva Santrifone!